Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Il 22 marzo è iniziato il Ramadan. Secondo la religione islamica è il mese in cui si pratica il digiuno. Si stima che siano circa due miliardi musulmani nel mondo e il Ramadan per loro è una cosa sacra. È uno dei cinque pilastri dell'Islam. L'Islam ha inizio nel 610 d.C. circa. I musulmani credono che un uomo, Mohammed, da noi pronunciato Mahometo, ricevette rivelazione da parte di Dio, Allah, per mezzo dell'arcangelo Gabriele. Mahometo non scrisse queste rivelazioni direttamente, ma furono altri a raccoglierle in 114 capitoli detti sura, che compongono il Corano di fatto, che è il libro sacro dell'Islam. Il Corano è scritto in arabo perché credono che questa fu la lingua usata dall'arcangelo. Ebbene, il Ramadan è un digiuno collettivo fatto in commemorazione di questo evento e quest'anno finirà il 22 aprile. Ogni anno cambia la data e si realizza il nono mese del calendario islamico che è composto da 354-355 giorni, quindi 10-11 giorni in meno rispetto all'anno solare che usiamo noi. È una festività sacra e non ha a che vedere solo col non mangiare durante il giorno, ha a che vedere con la preghiera, ma anche con sacrificare le cose che diamo per scontate, tipo il cibo e l'acqua, ma anche a stenersi da fumare, da pensieri negativi, da cattive intenzioni o dal sesso, e mi si perdoni se non le ricordo tutte. Al Tramonto poi festeggiano rompendo il digiuno, mangiando con amici e parenti, perché la comunità è importante, la condivisione lo è, tanto che il Ramadan è interconnesso a un altro dei cinque pilastri dell'Islam che è lo zakat, l'elemosina, cioè il condividere il proprio benessere, il proprio denaro, le proprie risorse con altri. Tutto questo digiunare e dare per i musulmani ha lo scopo di imparare l'autocontrollo, la moderazione, la gratitudine e la compassione. Infatti quando rinunci a necessità basilari come mangiare e bere durante il giorno per un mese, cosa impegnativa, tendi a capire di più coloro che per povertà e problemi sono costretti ad affrontare queste negazioni e questi problemi ogni giorno. E diventi più grato per ciò che hai. Ed infine sperimenti i limiti del tuo corpo, e quindi cresce una visione sobria di sé, questo si pensa, è una visione in sottomissione al tuo Dio per aumentare la tua fede in Lui. C'è chi dice che in una società del consumo smodato come quella occidentale, la nostra, un digiuno come questo potrebbe aiutare. C'è chi dice che se imparassimo tutti più autocontrollo, gratitudine e compassione, il mondo sarebbe un posto migliore. Credo siano avere queste cose. Tuttavia, se guardiamo al mondo per quello che è, sappiamo che tutte le ore di digiuno, di autocontrollo, di compassione possibili non basteranno mai a sistemarlo. E se guardiamo a Dio per quello che è, sappiamo che qualsiasi buona opera non potrà mai veramente avvicinarci a Lui. Ma ecco la buona notizia. Non possiamo fare nulla per sistemare il mondo perché Dio lo ha già fatto. Immagina questo. Non sarebbe fantastico se invece che inseguire un impossibile sentiero che speri ti faccia salire sino a Dio fosse Dio stesso a scendere verso di te. Non sarebbe meraviglioso? Ebbene, permettimi di presentarti Gesù, il Dio che scende e allunga la mano verso di te, che allarga le braccia e ti adotta nella sua famiglia togliendo ogni vergogna e ogni rigetto da te e condividendo l'onore che solo Lui, il Re dei Re, può avere. Durante il Ramadan c'è un giorno importantissimo, definito la notte del destino, durante la quale i musulmani credono che tutti i loro peccati, i passati, possono essere perdonati attraverso sincere preghiere. Non vi è piena certezza di questo, tuttavia. Non sarebbe fantastico se qualcuno invece avesse già pagato per i tuoi peccati. Ebbene, di nuovo permettimi di presentarti Gesù, colui che si è offerto in sacrificio per i tuoi e per i miei peccati. Possa Dio trovarti lì dove sei oggi. Dio ti benedica. Grazie per la visione.